non so che tipo di rapporto hai con lui ma se lo vuoi aiutare l'unico modo è metterlo capò non posso affrontarlo lui è un mio amico morirai molto presto non sarebbe una morte perfetta ricordi cosa dicevo allora ai deboli non è concesso scegliere come morire sei solo un vigliacco noi abbiamo faticato per venire fin qui e tu non ti degni neanche di combattere trafi lo faccio fuori sono davvero arrabbiato razza di idiota che ne è del nostro piano vedi di mantenere la calma non resisto più gan gan maledetto te ne pentirai che sta facendo sta per colpire l'ho cappello di paglia sei uscito di senno interessante siamo AAAAAAAA Shaanda'less! RED DOC! SIRER Bloffy! radio knife Cappello di paglia! Sei davvero il peggiore! Anche tu! Siamo di un'altra generazione, no?